Questa foto è di ieri notte, l'ennesimo cinghiale investito nei pressi di Latronico e la presenza non si limita al circondario. Sono tanti, sono tantissimi, noi come comune a settimana ne raccogliamo tre carcasse. Sì, 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 è vero, sono visti proprio in piazza, proprio vicino alle case, per cui è un problema serio. Ma il cinghiale può anche essere pericoloso. Progressivo, qui da te, faccio il cinghiale.